Anche il mestiere dell'attore, a dispetto di ciò che tutti potrebbero pensare, talvolta presentano poche difficoltà e non è un mistero il fatto che le scene di sesso rappresentino per molti interpreti una vera e propria gatta da pelare. Come ci si comporta, ad esempio, quando durante un provino viene espressamente richiesta una faccia da orgasmo? Ce lo racconta Keira Knightley, ospite del Graham Norton Show, che ha dovuto vivere questa esperienza di fronte a un mostro sacro come David Cronenberg, in occasione del provino per A Dangerous Method. Ho dovuto fare un sacco di facce strane da sesso, ha raccontato infatti l'attrice. Ho dovuto collegarmi a Skype con David Cronenberg, di modo che lui vedesse le strane facce da sesso che mi ero preparata. È stato orribile da ogni punto di vista, perché non lo avevo mai incontrato prima. Per cui ci siamo detti, ciao, piacere di conoscerti e subito dopo, quindi come sono le tue facce da sesso, che fino a poco prima stavo provando allo specchio, racconta Keira ridendo. Dovevano essere facce da sesso orribili per il film, e vi assicuro che lo fossero, e all'improvviso Skype si è bloccato con la mia faccia orribile sullo schermo, mentre parlavo con David, che per me è un regista fantastico. L'attrice racconta poi di un'altra brutta esperienza sul set di espiazione, visto che il regista Joe Wright le urlava istruzioni durante una scena di sesso con James McAvoy, in modo non propriamente educato. Samuel L. Jackson, ospite anche io dello show, ha quindi commentato con filosofia. Questo è quello che il pubblico non sa, pensa, oh mio dio ma guarda là, e invece tu sei circondato da un mucchio di persone che ti guardano annoiate.